Che dire, le intenzioni sono ottime, anche perché poi le intenzioni contano moltissimo, nel senso che nelle intenzioni, uno può fare il processo delle intenzioni, ma le intenzioni sono il seme da cui nasce qualsiasi albero esperienziale. Questa ripresa è fatta su una moto, in movimento, è morto Dennis Hopper ma Easy Rider vive ancora. Le cose si iscrivono veramente ogni giorno, io dico sempre che il libro della nostra vita è compilato pagina dopo pagina, ma con scadenza giornaliera. Questo progetto va in questa direzione, non per niente sono chiamato Daily Expo, almeno un nome provvisorio. Io sono convinto poi che avere il punto di vista di tutti ricostruisce proprio questo sistema nervoso che è la società, in fondo siamo veramente dei gangli singoli di un sistema nervoso, ma poi è il nostro sforzo collettivo che produce scosse, che dà energia. Quindi ricostruire questo sistema nervoso, questo mosaico, i tesserine sperdute e colorate, questo mosaico è bello cercare di ritrovare un'immagine complessiva. Poi voglio dire, può essere veramente fucsia o grigetto, io grigio non specifico, ma veramente il senso complessivo che ridà senso. L'Expo a me sembra un pochino un baraccone, però forse è un po' antico anche. Credo che quando c'è positività nel fare le cose, poi si arriva anche a ottimi risultati. Ad esempio io parlo di architetto, a me l'approccio di totale smaterializzazione mi piace molto. Abbiamo appena a Shanghai, il trionfo della costruzione ancora va, il cemento trasparente del patrimonio italiano, a me sembra delle cazzate totali. Quindi questo fatto di rinunciare a costruire, già mi sembra che Milano sia abbastanza matura e voglia raccontare una storia nuova. E siccome inevitabilmente dobbiamo testimoniare la contemporaneità e non correre dietro a passatismi del cazzo, allora forse Milano già un pochino l'ha imbeccata. Poi voglio dire, Franco i suoi amici li sceglie sempre con attenzione. Noi forse possiamo anche fare da controcampo, da contraltare, da coscienza come abbiamo sempre fatto, non lo so, non lo so, qualsiasi cosa. In ogni caso io credo che veramente anche dall'equilibrio dei contrari, no? Si sviluppino le cose. Possiamo tutti buoni, poi non ci sarebbero i cattivi, non si capirebbe chi sono i buoni, insomma. Indiani e cowboy, noi ci sentiamo un po' indiani, ma insomma. Bene così, bravi, bravi, anche perché poi oggi Franco mi ha fatto poi un regalo, mi ha portato il mio albero preferito, Alessandro Guerriero, un amore di persona. Quindi se c'è lui dietro a sta roba qui, io sono sicuro che sarà fighissima.